Ecco Marco questa sera è stata una strada straordinaria come il solito pubblico inapplausibile è stato molto bello, un premio molto molto bello, sono contentissimo spero di riuscire ogni anno a raggiungere almeno un premio del genere, sono felice senti torni il prossimo anno? se mi premieranno sì, vediamo beh pensi che sei sempre meritato insomma vincere da partutto? non lo so, questo lo devono dire gli altri il tuo grande lavoro è meritato comunque no? grazie grazie a te grazie